Qui si sta molto bene e quando fa troppo caldo si può fare un bagno senza doversi spostare con la macchina. Come questo ragazzo olandese sono tanti i turisti che quest'estate hanno scelto di trascorrere le proprie vacanze sul nostro lago in campeggio. Una formula particolarmente felice anche in tempi di pandemia, con la possibilità di vivere all'aria aperta e dormire in camper o nella propria tenda. Effettivamente la stagione sta procedendo molto bene, abbiamo avuto i problemi del maltempo, adesso comunque col bel tempo le presenze sono al top, abbiamo tutto pieno tutti i giorni e la vita all'aria aperta è quella che è meno preoccupante per quanto riguarda il discorso della pandemia. Qui bene o male, i spazi sono ampi, sempre all'aperto, la gente può stare distanziata e logicamente poi i turisti europei sono quelli che hanno ripreso per primi il turismo estero, venendo in Italia. Gli olandesi specialmente, i tedeschi, la vita all'aria aperta per loro è importantissima. È vero che in questi ultimi due anni ha aumentato anche il turismo di prossimità? Beh, noi abbiamo sempre avuto i turisti di Milano, di Bergamo che vengono qua da noi e usano la Rolod come seconda casa per i fini di settimana. E poi in bassa stagione, adesso col discorso di camper, che c'è un molto turismo, diciamo così, itinerante, i turisti di Milano che hanno il camper ne approfittano prima di fare le vacanze estive, in cui dopo si portano all'estero oppure in altre zone d'Italia, utilizzano il camper per i fini di settimana. C'è un clima piacevole, nuotiamo tanto, andiamo a visitare la città. È una vita avventurosa? Sì, lo è. Sono le vostre scarpe tipiche? Sì, sono le scarpe di mio figlio. Cammina tutti i giorni con quelle e quando siamo stati a Milano tutti lo guardavano. Da dove venite? Olanda. Non è la prima volta che siamo qui, siamo qui già da 18 anni, quando i figli erano ancora molto piccoli. Ci sono tanti italiani molto simpatici. Quest'anno abbiamo camminato il sentiero di Greenway vicino a Lenno. Abbiamo camminato sul monto Baro e oggi siamo andati a Bellagio e a Lierna, abbiamo fatto un bel pranzo. Ogni anno quando guidiamo sul ponte diciamo siamo a casa.